Sciale Ciro, ma come viene Napoli e non vai da Sciale Ciro? Il graffetto ragazzi, il graffetto, cornetto di graffa, ripieno di panna, Nutella e Kinder Pinguì. Guardo sto video e ancora sento il sapore in bocca della panna, della Nutella che scivola dentro. E il Kinder Pinguì, messo sopra, tutto ricoperto di Nutella, mamma!